Tutti verificati i vigili urbani del comando di polizia municipale di Salerno dopo la notizia dell'agente positivo al covid. Subito è stata attivata la procedura predisponendo tamponi per tutti i caschi bianchi già dalla giornata di sabato completando oggi lo screening presso il comando di via dei Carrari con il personale dell'ASL. Tamponi per quanti sono venuti a contatto con il vigile residente a Ponte Cagnano Faiano contagiato da un familiare. Sanificazione della caserma controlli che hanno riguardato anche il personale di Salerno Pulita che lavora nella struttura e il personale della protezione civile. Risultano invece negativi tamponi ai colleghi del contagiato posti in isolamento fiduciario. La macchina dell'emergenza si è mossa bene ma serve più attenzione per la sicurezza dei nostri colleghi e l'opinione dei rappresentanti delle sigle sindacali CGL, Cisle, Will e CSA che in un documento congiunto al comune di Salerno e al comando della polizia locale hanno comunque lodato la condotta dotata dal vice comandante, il capitano Rosario Battipaglia, dall'assessore alla mobilità Mimmo De Maio e dal dipartimento di prevenzione dell'asale di Salerno dopo la notizia di sabato della positività al coronavirus del vigile urbano di Salerno. Sì, oggi concludiamo un secondo ciclo. Noi in maniera tempestiva abbiamo attivato tutta la procedura così come previsto dal protocollo. Sono stati verificati con tamponi tutti gli uomini del corpo di mobilità municipale, 130, abbiamo avuto i primi dati tutti negativi, questo ci conforta molto, così come i dati negativi risultano per i colleghi che erano più a stretto contatto e che quindi si trovano in condizione di quarantena obbligatoria. Continueremo lo screening per gli ultimi che erano rimasti e entro stasera pensiamo di poter chiudere tutta questa fase di verifica e quindi tranquillizzare tutti, ma già i dati sono assolutamente da questo punto di vista confortanti. Fin da subito si è provveduto anche a sanificare gli ambienti e i luoghi di lavoro qui al comando di Via dei Carrari? Sì, voglio dare atto che il lavoro predisposto anche dal capitano Battipaglia è stato eccezionale perché noi in tempi strettissimi abbiamo sanificato sia i mezzi e sia anche tutte le strutture per dare tranquillità, non solo ma abbiamo esteso anche lo screening a tutte le persone esterne, al corpo come per esempio gli ha detto la polizia, gli uomini della protezione civile che in questi giorni sono stati in contatto con gli uomini della polizia municipale, gli stessi giovani che sono stati qui in questi giorni per quanto riguarda l'attività di formazione, per motivo cautelativo abbiamo esteso questa attività di screening e entro oggi chiuderemo questo lavoro. Le operazioni di screening vanno avanti, massima serenità, massima collaborazione tra i colleghi, massimo supporto dell'amministrazione nella persona del signor sindaco e dell'assessore De Maio, per cui finora tutto a posto, tutti negativi, quindi ora è soltanto prassi, auguriamoci che vada tutto come sicuramente sarà a buon fine. Il Covid è tra noi e lo testimoniano le numerose campagne affinché i cittadini siano scrupolosi nell'osservare tutte le norme previste anticontaggio. Ci sono tra l'altro in corso non pochi controlli proprio da parte degli agenti di polizia municipale per verificare che anche le attività commerciali si comportino nella maniera dovuta. Sicuramente, quindi un appello rivolto a tutti i cittadini, massima chiediamo soltanto effettivamente collaborazione per il senso civico che sicuramente c'è a Salerno, però c'è una fetta di persone che probabilmente abbiamo dimenticato il passato, il recente passato, quindi l'augurio, cioè auguriamoci che veramente capiamo il problema, il problema c'è, non da sottovalutare e sicuramente non sarà affatto. Massimo controllo da parte nostra in rapporto alle unità che abbiamo e quindi andrà tutto bene. In questo momento possiamo dire che la repressione è prevenzione? Sicuramente, la repressione è prevenzione e la prevenzione sicuramente è importantissima ma sono i cittadini, dobbiamo capire noi, siamo tutti padri di famiglia, tutti abbiamo una famiglia per cui dobbiamo partire da là, cioè praticamente dobbiamo essere coscienti, coerenti e dobbiamo sapere che c'è questo Covid è ancora in giro, quindi attenzione.